Da un paio di giorni, l'Europa è in pressing sull'UEFA. La richiesta è quella di spostare la finale di Euro 2020 da Wembley a causa del picco di contagi che si sta registrando nel Regno Unito a causa della variante Delta. La richiesta è dovuta anche alle restrizioni imposte dal paese che andrebbero a gravare su atleti, staff, giornalisti e tutto il circo itinerante che segue la competizione. Richiesta dovuta, ovviamente, anche a ragioni geopolitiche. Della vicenda se ne parla a 8 e mezzo di Lili Gruber. Il puntata in onda sulla 7. La puntata è quella di martedì 22 giugno. Dopo Mario Draghi, il primo a chiedere lo spostamento della sede della finale degli europei, anche Angela Merkel ha avanzato identica richiesta. E a farei punto su quanto sta accadendo, ospite in collegamento, ecco il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Questa uscita di Draghi sul togliere la finale a Londra non credo che appartenga a una strategia di politica interna o a una visione di politica interna. Ma in una strategia di comunicazione europea premette Sallusti. Europa e Inghilterra non è che vadano molto d'accordo in questi tempi. E così nella sua scalata a diventare leader europeo ha dato anche questo buffetto agli inglesi. sapendo benissimo che il risultato sarebbe stato nullo. L'UEFA ha detto che non se ne parla neanche. Ma è stato come dire. Guarda che voi cari inglesi non è che siete perfetti in tutto. Mi è sembrata più una comunicazione all'interno dell'Europa che non dell'Italia. Ha concluso il direttore.